sono passati cinque minuti siamo appena partiti abbiamo fatto due serrati e niente già 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 non arrivano ora chiederemo che cazzo è successo caccia il cinghiale ciotti è durato poco dentro tappotti tappotti tappi e bravo giotti tappotti e 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 ecco e 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 ha recuperato già si sta uccidendo niente gli è presa la ignazita in discesa non va più eppure era veloce ci vuoi raccontare come mai sei arrivato qua io ho staccato il video guardate questa è la strada questa è la strada se non mi diverto e arrivi sotto questi frenano e poi appiato un albero raga io non ho parole un albero in una discesa che ti è dai su ti serve una mano non è capisco che tu sei sentiziato perché se devi saper togliere la marcia quando fai queste cose il neutro è tra la prima e la seconda vai ole ole ancora vai riparti in vai 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 sei il nuovo ignazio in discesa e namo si sta seduto mi raccomando che è successo? ti arrendi così ti super e spegni il motore ti super e spegni il motore si raga vai 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 Nick ma che cosa ti facciamo il tempo a mandare avanti su un hard un attimo ho visto 50 euro vai 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 Mamma mia, mamma mia Mamma mia, porrociotti Vai, ritenta, ritenta Ritenta, dai zitto ho fatto Ma l'hai visto quella cura? Non chiudevo il gas, penso che sta ammazzando Dai ritenta, 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 sarei più fortunato Manco io Poverino, deve esserci rimasto male Malissimo 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 Oh porco Vinci No 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 E qua è partito molto prima di me, è cascato, l'ha stato sdraiato a metà salita Ammazza Eh questa cosa dovrebbe incidere molto Non c'è nessuno